Maria Teresa Valente, le sue priorità per quanto concerne Manfredonia? Sicuramente rendere Manfredonia una città più pulita in tutti i sensi, sia come decorurbano ma sia anche a livello di polizia perché non dobbiamo dimenticare mai che usciamo da due anni e mezzo di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Quindi pulizia a 360 gradi. Il programma elettorale quali punti salienti prevede? Noi abbiamo a cuore le famiglie, quindi un rafforzamento dei servizi sociali. Sono stata molto in giro, come è normale che sia per un candidato sindaco, e ho potuto toccare con mano una situazione veramente disaggevole. Quindi c'è una città piegata, ci sono notevoli disagi tra i cittadini che chiedono aiuto. Negli ultimi tempi i servizi sociali non accolgono più persone ma accolgono pratiche. E non va bene così. Quindi un rafforzamento prioritario dei servizi sociali. Poi ovviamente occorre dare lavoro a questi cittadini perché se bisogna uscire da questo disagio il miglior modo è lavorare. Noi abbiamo proposto una proposta di qualche giorno fa che poi ho voluto condividere anche con gli altri candidati sindaci perché chiunque tra di noi venga eletto può far sì che vengano assunti subito 100 giovani neolaureati per rimettere in moto la macchina amministrativa. Bisogna partire da questo. Bisogna rimettere in moto il comune perché è il comune il cuore della città. Quindi lavoro e poi bisogna ripuntare sulla cultura, anzi puntare sulla cultura, sulla storia di questa città. Perché noi viviamo su dei pozzi petroliferi, dico io, perché abbiamo una storia immensa assolutamente da valorizzare. Manfredonia e Siponto potrebbero essere dei musei diffusi. Facciamo pagare il biglietto per visitare le nostre bellezze, valorizziamole. Turismo? Certo, quello poi è un tutt'uno perché se valorizziamo la bellezza del nostro territorio e la rendiamo appetibile, anche il turista verrà, non sarà più un turismo mordi e fuggi alla giornata. Ma resteranno anche più giorni per visitare tutto quello che di bello abbiamo, a cominciare dal parco archeologico di Siponto, il castello, grotta scaloria che è assolutamente da aprire e da rendere fruibile. Abbiamo veramente un patrimonio inestimabile in questa città. Oggi viene lo palco, cosa chiederete all'assessore e alla sanità? La sanità è un punto importantissimo, un punto dolente per questa città perché la struttura ospedaliera sta perdendo pezzi quasi quotidianamente. Non possiamo permettercelo. Manfredonia è una città di 57.000 abitanti e moltissimi sono costretti ad andare fuori per farsi curare. Noi abbiamo dei reparti chiusi, vogliamo che questi reparti possano riaprire. Quindi noi chiederemo aiuto allo palco per assicurare un futuro all'ospedale di Manfredonia. Chi farà il sindaco si troverà in una situazione debitoria pesante. Come pensate di recuperare questi soldi attraverso l'aumento delle tasse o vendendo magari proprietà del comune? Per quanto riguarda la situazione debitoria c'è ovviamente un debito da ripianare e c'è già un piano di rientro che sta lavorando a questo. E non si tratta di un debito di 78 milioni di euro come era stato diffuso nei giorni scorsi. È molto meno però comunque è un debito importante. Cosa fare? Allora lasciamo che il comune lavori recuperando anche da chi non ha pagato finora le tasse. È giusto che le paghino tutte perché se pagano tutti, tutti paghiamo meno. E poi io sto puntando molto sui finanziamenti, PNRR, noi dobbiamo far ripartire la città grazie ai finanziamenti europei, al recovery plan.